Il 3 dicembre è la giornata internazionale delle persone con disabilità e il Parco archeologico di Pestum e Velia rinnova il suo impegno per l'accessibilità e l'inclusione con il progetto a scuola nel museo e dal museo. L'iniziativa realizzata in collaborazione con Cilento for All, il tulipano, prevede la possibilità per le scuole di tutta Italia di visitare gratuitamente il museo di Pestum da remoto grazie all'uso delle moderne tecnologie informatiche che abbattono la distanza imposta dall'emergenza sanitaria da coronavirus. A differenza dei tour virtuali, la didattica a Pestum, anche se a distanza, continua a essere fatta di relazioni ed emozioni, quelle che si instaurano tra gli operatori culturali connessi dalle sale del museo e gli alunni e gli insegnanti che interagiscono dalla rete. Un giorno all'anno tutto l'anno e questo lo slogan ufficiale della giornata delle disabilità con cui verranno accolte tre classi collegate da Salerno, Napoli e Como per le visite dal museo. L'arte e la tecnologia sono strumenti eccezionali di conoscenza di se stessi e degli altri, commenta Giovanni Minucci. Garantirne la fruizione a tutti, in particolare alle persone con bisogni speciali, significa promuovere il processo di inclusione per una società dove proprio le differenze che ci caratterizzano diventino un valore aggiunto. Nel corso degli anni della direzione Zucktrigel diversi sono stati i progetti messi in campo dal parco dedicati a persone con disabilità, dalla realizzazione del percorso accessibile nel santuario meridionale con la passerella per entrare nel tempio più antico di Pestum, la basilica alle visite per i bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico nominate un tuffo nel blu, sempre in collaborazione con Cilento for all, il tulipano e con il coinvolgimento del Dipartimento di Scienze Mediatiche Translazionali dell'Università Federico II di Napoli e con quello di Scienze Motorie e del benessere dell'Università Partenope. Le visite sono per tutti e per ciascuno, commenta il direttore Zucktrigel, perché abbattono barriere fisiche, si possono fare comodamente dal divano di casa, socio-economiche, sono gratuite e cognitive, i contenuti sono calibrati su differenti livelli di età e difficoltà. La metodologia didattica utilizzata parla di diversi stili di apprendimento e alle diverse intelligenze e permette una visita realmente inclusiva. Il museo è un luogo in cui si impara sempre, anche quando i bambini diventano grandi, ovvero cittadini consapevoli della bellezza che va sempre tutelata e custodita per essere accessibile anche ai bambini di domani. Per informazioni sul progetto, la scuola nel museo e dal museo, mail tulipanoart.org, telefono 334-70-09-567.